Leonardo Silva Revisore-Poletro Riprendiamo? Mi fanno cenno di sì dalla regia, mi dicono, come si dice? La regia mi fa segno, la centrale di controllo ci ha dato lo slot, per cui finalmente dopo sette giri su Heathrow possiamo atterrare. Benissimo. Allora, siamo in chiusura. Io mi sono tenuto questi dieci minuti, che in realtà se voi andate a cercare sull'agenda erano altrove, ma perché sono le tecniche di buffering che noi umani usiamo. E quindi, parlando prima con Marco, mi diceva devo studiarla questa cosa perché secondo me anche lui... Allora, è un intervento molto rapido e molto veloce che serve per farci un pochino ripartire. Poi la giornata si concluderà con una tavola rotonda dove guarderemo un pochino meglio le persone. Oggi abbiamo parlato tanto di persone, siamo partiti dai clienti, siamo partiti dalle persone, siamo partiti da, poi però quando ci guardiamo in azienda e cerchiamo di capire chi possa veramente aiutarci a gestire una trasformazione digitale verso il fatto di rendere questa azienda guidata dagli algoritmi, guidata dall'intelligenza artificiale, non è proprio linearissimo. Allora qua cerchiamo in qualche modo di dare qualche spunto, ma poi metteremo meglio le cose a fuoco durante la nostra tavola rotonda. Dati. Fin qua tutto bene, si potrebbe dire. Come diceva l'uomo che cadendo dal venticinquesimo piano e passando davanti al quinto, fin qui tutto bene. Allora, questa l'avrete vista un miliardo di volte, però è quella del 2019. diciamo tanti e non solo. Qui il, diciamo, non è venticinquante, è venti-venti, cinquanta miliardi di oggetti collegati in rete. Questi sono i cosiddetti open data. Ce ne sono tanti. Sono disponibili, molti di noi li usano. E poi ci sono naturalmente i data center aziendali, i legacy. Non dimentichiamoceli. È vero che rappresentano scarsamente l'8-10% dei dati che gestiamo normalmente, però diciamo che il fatto di essere strutturati li rende interessanti. Alla fine questa è una previsione che sicuramente tutti voi avrete visto, no? I famosi 44 gatti, come li chiamo io, i 44 zettabytes che nel 2025 popoleranno il mondo. Nel 2017 la quantità di dati prodotta ha superato quella prodotta dal genere umano da quando esiste. Quindi adesso, diciamo, parliamo tanto di esponenzialità e questo è un esempio. La tecnologia, la crescita di supercompute alla scala logaritmica, e questa è la legge di Moore, no? Poi ci siamo un pochino, come dire, preoccupati perché abbiamo scoperto che la legge di Moore in realtà è strettamente legata alla capacità di minutarizzazione che abbiamo e siamo un po' arrivati ai limiti fisici, no? Proprio la dimensione minima della molecola di silicio. Fortunatamente ci stanno venendo in aiuto queste bestie, no? Quantum computing. e questo è molto interessante perché quello è il raffronto tra il tempo che ci avrebbe messo un sistema tradizionale, un supercomputer di quelli che conosciamo noi, paragonato alla capacità di elaborazione di un quantum computing, il percatto è che il primo sono anni e il secondo ore. Quindi rendetevi conto di che cosa potrebbe significare nel momento in cui non solo avremo a disposizione un quantum computer, cosa che è già così, perché alcuni operatori l'hanno già messo a disposizione di ciascuno di noi, si può noleggiare un Q nanosecond di capacità elaborativa, ma soprattutto quando troveremo che cosa fargli fare, perché ancora non ci siamo. le competenze. Dov'è Stefano? Che non lo vede. Eccolo in prima fila. Stefano Gatti, il mio coautore del nostro libro di AI Expert, è usato questa naturalmente, che è il tavolo delle AI. Lo dicevamo all'inizio, no? La competenza della data science, questo è un diagramma di Venn molto noto, 2009, queste erano le competenze che vedevamo gravitare attorno al concetto di data science, no? e oggi diciamo che il data scientist è uno degli attori del tavolo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo i data engineer, abbiamo gli architetti, abbiamo chi fa scouting, abbiamo il legal expert. Siamo sicuri di poter veramente usare tutti i dati di cui disponiamo? Abbiamo tutte le necessità e così via. Quindi diciamo, anche qui ci stiamo evolvendo. Questo è un grafico piuttosto interessante che fa vedere come il livello di performance segue il livello di presa di coscienza delle competenze. Il vero tema, come dicevamo all'inizio, è il tempo. Noi non ce l'abbiamo più. Noi arriviamo alla conscience incompetence e già sappiamo che quando ce l'avremo sarà totalmente inutile. Quindi ecco perché il mio stimolo è invito a imparare dell'inizio della mattinata. L'organizzazione. Questa è la tabella da cui abbiamo tratto la domanda. Skill che stanno crescendo, li vedete qua, analytical thinking, innovation, active learning, learning strategies, creativity, eccetera. Queste sono quelle che invece stanno piano piano scendendo. Perché? Siamo sicuri che questo sia completamente, totalmente legato all'avanzata dell'intelligenza artificiale? Oppure in realtà per come si sta muovendo la società abbiamo bisogno di diverse competenze. Critical thinking and analysis. Questo lo insegnano a scuola. Sono nuove modalità con le quali invitiamo i nostri ragazzi. Quando dico ragazzi, bambini, 11, 12, 13 anni studiano quella roba. Lo fanno perché? Perché quella cosa abilita nuovi processi decisionali, nuova capacità di presa di decisione che sembrerebbe essere in una struttura che va verso l'intelligenza artificiale e la presa di decisione attraverso l'intelligenza artificiale è un controsenso. Eppure è una delle competenze che stanno fortemente crescendo. Complex problem solving. E prima di fare la problem solving bisogna fare la problem determination, se no cosa risolviamo. Quindi le competenze che stanno emergendo sono competenze estremamente radicate in noi, umani, difficilmente diciamo delegabili. Le organizzazioni stanno cambiando. Quanti di voi conoscono le TEAL organization almeno come concetto? Nessuno. TEAL organization è un concetto che è legato al modo in cui i gruppi di lavoro si muovono a fronte di specifici obiettivi. Viene meno il concetto di delega, viene meno il concetto di azienda paragonata a una fabbrica come quella che conosciamo noi con task specifiche, processi specifici e ci spostiamo invece su un livello di autonomia superiore. I Chief Executive Officer hanno la funzione di indicare qual è il purpose, il proposito che l'azienda si deve porre. Le organizzazioni sotto, i team, godono di totale autonomia nella definizione di tutto nella definizione dell'obiettivo, nella modalità con la quale questo obiettivo viene raggiunto, nella disponibilità dei budget. È un passo importante? Sì. È un passo necessario? Probabilmente lo diventerà. Imparare ad imparare richiede anche gradi di libertà diversi da quelli ai quali siamo abituati, no? E quindi, diciamo, questa è un'evoluzione dove lo scopo diciamo ultimo è proprio quello di avere alti livelli di self-management. Funziona dappertutto? Non è detto. Ci sono dei casi, se volete approfondire andate a vedere Zappos, mi viene in mente questo, potete scoprire quali sono gli aspetti che in qualche modo si frappongono tra la possibilità di farlo veramente e l'uomo perché a un certo punto l'uomo di tutta questa autonomia forse non sa veramente cosa farsene e quindi è un bilanciamento continuo, Per cui nella stessa azienda possono coesistere diverse modalità organizzative. È una sfida e c'è già qualcuno qui che lo sa. Benissimo. Questo è un altro passaggio importante dell'organizzazione. Allora, sono stato invitato a chiudere un percorso di formazione che il MIP sta organizzando. Uno dei moduli si intitola Business Plan e io volevo andare con un intervento poi mi hanno convinto che era meglio smussare gli angoli dal titolo Il Business Plan è morto perché secondo me il Business Plan è morto. La sperimentazione è la prima delle cose a fronte delle quali ci dobbiamo porre nel momento in cui vogliamo costruire delle roadmap. sperimentare. Non sappiamo ancora precisamente quale sia la direzione strategica stiamo raccogliendo informazioni su quello che potrebbe essere utile e che ci aiuta anche a selezionare i team. Poi cominciamo a parlare di formazione e poi di strategia. Un po' strano vedere la strategia così dopo, no? Poi c'è un tema di roll out sull'organizzazione. queste sono alcuni esempi di quelle che potrebbero essere delle sfide che da un punto di vista delle persone all'interno di un'impresa dobbiamo tenere in considerazione. Ora, con il nostro, con la nostra tavola rotonda, questa mi sembra che sia finita esattamente, con la nostra tavola rotonda cerchiamo proprio di capire quali possano essere approcci al change management in ottica di reskilling. Le reskilliamo le persone oppure continuano a fare il lavoro che hanno sempre fatto? Se gli impianti di RPA sottraggono componenti tipiche di una certa professione, quelle che non vengono sottratte, dove le mettiamo? Questi sono alcuni dei temi. Matteo Pizzicoli, direttore d'organizzazione di innovazione di Creval, Marco Turchini, Group Head of Innovation di A2A e Daniele Tamborrelli, Chief Data and Analytics Officer di Conte.it. Eccoci, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ciao. Allora, qualcuno prima di me ha rifiutato il trespolo, non sia mai che io mi ci sieda, quindi sto in piedi, mi scuserete. Allora, vediamo un attimo. Siamo assolutamente in tempo per fare tutto quello che ci serve. Allora, questa... Noi abbiamo fatto un po' di telefonate di allineamento, no? E ho scoperto delle storie incredibili, cioè, veramente incredibili. Allora, aspetta, Ambrogio e Alfredo. Ambrogio e Alfredo. Matteo, dai, inizia tu a raccontarci questa... Però, devo chiedervi grande rigore di tempi. Assolutamente. Perché abbiamo in tutto 40 minuti mal contati, quindi sarà sfidantissimo. Velocissimi. Ambrogio è il nome del chatbot che abbiamo realizzato per innovare il modello di supporto ai colleghi della rete. L'abbiamo realizzato a partire da giugno del 2017, siamo andati in produzione con un primo pilota nel settembre del 2017, poi produzione totale alla fine del 2017 su tutte le filiali, quindi diciamo che ha due anni. Però quando era nato si chiamava Ambrogio perché volevamo richiamare il concetto di concierge, di maggiordomo, chi meglio del maggiordomo dei Ferrero Rocher e poi un nome un po' Lombardo. Poi qualcuno ci ha scritto ricordandoci che aveva già registrato il marchio Ambrogio, anche se Ambrogio era il nome di un progetto interno della banca, allora abbiamo deciso di cambiare di nome e l'abbiamo chiamato Alfredo in onore ad Alfred Pennyworth che è il maggiordomo di Batman. Allora come dico io di solito adesso Alfredo è il fratello più intelligente di Ambrogio. Assolutamente, grazie Matteo. Allora, secondo me qui hai citato già due cose sulle quali vorrei invitarti a dare un ulteriore punto. Change management, ma le persone della rete che si sono viste affiancare prima da Ambrogio e poi dal fratello più intelligente cioè avevano preso la tara su Ambrogio e poi si sono accorti che no, era Alfredo la vera sfida. Allora, lì quando l'abbiamo presentato come Ambrogio eravamo ancora per fortuna in un contesto di change management ancora iniziale su una prima direzione territoriale poi dopo alcune verifiche è partito come Alfredo. come lo ha preso i colleghi di rete? I colleghi di rete lo hanno preso molto bene il tasso fate conto che il tasso di soddisfazione alla chiusura di ogni chat chiediamo un giudizio da parte dell'utente e i giudizi positivi o soddisfatti o molto soddisfatti sono il 94% tenete conto che tramite Alfredo oggi si accede all'assistenza in un minuto si ha probabilmente il tempo medio per avere la risposta oggi era un minuto prima di Alfredo con l'approccio telefonico parlavamo di sette minuti per riuscire a parlare con un operatore ovviamente Alfredo non è come molti hanno detto oggi non è un chatbot autonomo ma è un chatbot integrato con l'umano quindi Alfredo se sa rispondere lui risponde lui se non sa rispondere ha comunque capito il contesto sceglie il collega più schillato del service desk e gira la chat e interviene l'umano più schillato lo facciamo con assistenza di primo livello ma anche con assistenza di secondo livello abbiamo gruppi schillati su temi specialistici legal antiriciclaggio e così via quindi funzioni che non erano che non sono più le vecchie funzioni che rispondevano al telefono quindi il service desk ma strutture specialistiche di strutture centrali di altri dipartimenti bene grazie Marco vengo a te allora Marco a capo di un'organizzazione che si occupa di spingere l'innovazione in A2A una multi utility che tutti noi conosciamo volevo capire come ti stessi ponendo nei confronti delle nuove competenze necessarie non tanto all'interno del tuo supergruppo ma nell'azienda perché ovviamente lo stimolo sulle nuove tecnologie lo stimolo su nuove soluzioni poi deve essere in qualche modo riconosciuto come un fattore abilitante da parte dei colleghi e quindi? allora inizio con una battuta del nostro CFO perché noi abbiamo iniziato a parlare di digitale in una multi utility che tendenzialmente diciamo tanto digitale non è mai stata e tradizionalmente non sono e quindi io parlando con lui lui mi dice basta non voglio più sentire parlare di digitale 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 qui la gente deve digitare imputando come dire data entry chiaramente da CFO tutti i temi di finanza diciamo a parte la battuta che come dire come nuove skill quelle di digitale di più non mi sembrano particolarmente allettanti quello che noi vediamo è che l'esigenza numero uno è proprio nell'ambito dell'intelligenza artificiale cioè la nuova skill regina è legata al mondo della matematica al mondo della gestione scrittura pensiero algoritmica maintenance evidentemente quindi quella è la vera è la vera skill che secondo me manca altra cosa è l'approccio come dire agli effetti di una spinta digitalizzazione dell'azienda che ovviamente entra nel mondo del reskilling del change management qua quello che io penso mostravi tu una chart prima del world economic forum se non sbaglio che non è tanto un tema di cambiare le skill quanto più un tema di cambiare l'approccio cioè noi facendo un passo indietro affrontiamo il digitale affrontiamo l'innovazione per una questione di competitività per cui le aziende hanno necessità di essere più dinamiche di quanto non fossero prime quindi di reagire ai cambiamenti in un tempo in una modalità migliore secondo me la ricetta per fare questo è che in una organizzazione non ci siano tre scappati di casa e facciano innovazione conto terzi in un angolo dell'azienda ma dobbiamo spingere affinché la facciano tutti nel loro piccolo e qui entra il cambio di approccio cioè non servono grosse capability serve però che le persone identifichino il problema provino a cercare su google una soluzione vadano al loro capo a dirgli guarda secondo me la soluzione potrebbe essere questa dammi un budget per farlo questa cosa qui è come dire l'introduzione di un approccio imprenditoriale che non c'è mai stato in molte aziende che viviamo soprattutto in quella dove sono io cioè scusate soprattutto perché conosco solo quella per cui diciamo poi magari è tra le migliori e però il fatto di dire prendo ownership di qualcosa faccio cambiamento nel mio orticello è quello per cui poi alla fine si abbassa il livello di responsabilità appunto si porta verso il basso dando responsabilità a tutti di fare cambiamento e se ne questo è il passo il cambio di passo che serve non tanto formare sui dati for acquisire competenze specifiche verticali in utilizzo di certi tool quindi questo Marco però alla fine mi dà lo spunto per la prossima domanda che ti faccio subito questo impatta molto sullo stile manageriale soprattutto del middle management che deve fare degli spostamenti mica da ridere sul modo in cui fino ad oggi è stato richiesto dall'azienda di lavorare sì sì questo sicuramente cioè noi siamo abituati a delle aziende dove le decisioni vengono prese tipicamente sempre molto in alto anche le più piccole cioè io scusate non vengo dalla industry vengo da altri percorsi sono arrivato in una multi utility un'azienda molto strutturata molto storica e mi sono trovato a dover prendere delle decisioni paradossali per una persona di una media seniority perché come dire ero abituato che certe decisioni le prendevano a tutti i livelli quindi probabilmente come dire il ripensamento del management va anche in una come dire necessità di concedere il livello di delega in maniera molto sospinta dico un'altra cosa su questo cioè l'intelligenza artificiale è un altro come dire competitor di coloro i quali prendono le decisioni perché molte delle decisioni che noi oggi siamo abituati a prendere pensandoci o come dire magari non pensandoci ma come dire avendo noi la responsabilità domani domattina le prenderanno le intelligenze artificiali quindi anche questo tema di come dire ridotta capacità decisionale delle persone è un altro tema molto rilevante noi stiamo vedendo come uno degli ostacoli all'implementazione di programmi di sviluppo digitale chiarissimo chiarissimo allora a Daniele invece faccio un'altra domanda che è più riguardante come vi siete mossi nell'avvio delle sperimentazioni di intelligenza artificiale e basandovi su quali competenze interne esterne ibride inventate oppure come diceva Marco ritrovate sì noi siamo un'assicurazione auto quindi una cosa molto tradizionale però siamo nati digitali siamo nati dieci anni fa quindi abbiamo una realtà con un'età media di 35 anni questo chiaramente semplifica enormemente le criticità che il collega che arriva e quindi diciamo c'è grande apertura c'è voglia di innovare a tutti i livelli e non bisogna fare grosso change management sull'attitudine e l'approccio quello che però poi porta a essere un player nuovo recente non grande è un'estrema attenzione ai costi e quindi non c'era un budget per l'intelligenza artificiale e gli analytics avanzati e allora siamo stati costretti a pensare con un team piccolissimo di tre persone costruito da me tre anni fa a come fare sperimentazione quindi per orare la causa dell'AI e degli analytics in un contesto a zero budget e questo l'abbiamo fatto fondamentalmente spendendo moltissimo tempo all'interno delle aree di business quindi vivendo gli analytics e l'AI come uno strumento in più a supporto del business e non qualcosa che fosse autonomo e spendendo tanto tempo nell'identificare con forte rigore dei challenge dei problemi che il business stesso viveva che filtrati dalle nostre competenze potevano portarci a migliorare sensibilmente i risultati della compagnia ma anche soprattutto delle persone con cui lavoravamo quindi in un'ottica win-win questo ci ha portato ad identificare dei piccolissimi test e sperimentazioni in cui utilizzando dati disponibili e tecniche di machine learning non troppo evolute quindi non troppo complesse con un approccio cosiddetto a massimo risultato in due giorni quindi cosiddetto time boxed per provare a tirare fuori dei risultati che fossero appetitosi diciamo per i business owner e nel giro di un anno abbiamo generato qualcosa come 40-60 di questi prototipi chiaramente quelli che sembravano appetitosi sono passati alla fase successiva sarebbe stato impossibile prevedere tempo prima quali sarebbero stati perché erano frutto di test e interazioni su cui non sapevamo l'esito e quattro di questi l'anno scorso quindi dopo un anno di lavoro sono andati live e live vuol dire che c'è un'intelligenza artificiale autonoma però supervisionata che prende delle decisioni prende decisioni sui prodotti accessori oltre all'RC auto da offrire ai clienti prende decisioni sulla profilazione del rischio per capacità tecniche dei veicoli che vengono assicurati e prende decisioni su come allocare il lavoro ad alcune aree tecniche specialistiche sia di gestione dei sinistri che antifrode interessante mi sembra molto interessante dal punto di vista dell'accoglienza che l'infrastruttura tecnologica è stata in grado di dare a questa innovazione avete avuto qualche problema avete dovuto in qualche modo revisionare il contenuto di skill delle persone oppure invece essendo diciamo digitali nativi tutto è stato più lineare più semplice meno legacy meno in realtà purtroppo abbiamo avuto i problemi di legacy che hanno tutti perché siamo nati dieci anni fa la legacy è una settimana però dieci anni fa non era ovvio essere nel cloud soprattutto in un settore come quello sono nativo magari nel telco era ovvio questo non lo so però non era ovvio quindi anche noi abbiamo i nostri problemi di legacy abbiamo un'infrastruttura hardware on premise eccetera e quindi quello che abbiamo fatto è chiaramente avere un approccio cosiddetto think big però start small e quindi abbiamo ridotto la complessità affinché la win probability delle iniziative fosse reale così da rendere appetitose queste iniziative e recentemente mettendo a fattore comune tutte le lesson learned abbiamo identificato un percorso di passaggio al cloud che rafforzi enormemente la nostra capacità di mettere live in real time rapidamente algoritmi di machine learning e non sarebbe stato possibile se non avessimo raggiunto comunque dei risultati per quanto non perfetti ma subottimali nel breve termine e non avessimo fatto tanti errori che ci portano poi a capire cosa dobbiamo studiare su cosa ci dobbiamo formare invece a Matteo chiedo a sto punto il suo punto di vista sulla readiness di un'infrastruttura nei confronti di sfide come quelle che ci ha appena raccontato Daniele noi siamo una banca quindi puoi immaginare la complessità e i legacy che ci tiriamo dietro come banca e sarebbe bello poter partire da scratch e poter immaginare di costruire un mondo totalmente cloud qualcuno lo ha fatto e lo sto osservando con grande interesse perché sicuramente il livello di readiness è un tema c'è un tema che tocca però e la readiness delle strutture anche organizzative delle persone quindi nell'infrastruttura non metterei solo la parte tecnologica ma metterei proprio come ragiona l'azienda come l'azienda è strutturata noi io sono responsabile di una struttura che è organizzazione e innovazione abbiamo fatto una cosa un po' strana per il mondo bancario perché abbiamo unito gli analisti funzionali di business chi conosce quindi diciamo la parte delle richieste del mercato le sa interpretare le sa tramutare in specifiche in business requirements in specifiche per la parte dei sistemi informativi con tutta l'area delle architetture applicative di integrazione di process automation e di innovazione rispondono a me entrambi i team e abbiamo dato una connotazione alle architetture molto sì di visione ma anche molto mano in pasta pratica si prova quindi ci configuriamo come una sorta di struttura di consulenza interna tra il business e la componente più hard gli sviluppatori più tradizionali e l'infrastruttura più tradizionale lo stile che abbiamo applicato in questo team nasce un'idea va testata rapidamente e in poche settimane deve produrre un risultato se il risultato funziona stacchiamo un secondo ticket sullo step successivo di norma ad esempio per Alfredo abbiamo lavorato con una settimana di design otto settimane di un primo mini boom viable product altre otto settimane ed eravamo al prodotto finito praticamente e anche questo è interessante perché dimostra uno che spesso non bisogna spendere grandi cifre per lavorare sul tema dell'intelligenza artificiale il progetto da noi si è ripagato con i benefici che ha prodotto poi i pratici si è ripagato in meno di sei mesi ma occorre più una capacità di saper individuare un tema immediatamente iniziarci a lavorare sopra e rischiare rischiare di sbagliare quello che dico sempre miei è piuttosto tornate con un errore perché almeno abbiamo capito qualcosa che esattamente bene a Marco chiedo questo Marco con il suo team è un generatore di sfide dentro a duea perché pone sul tavolo sempre cose che difficilmente si sono viste prima allora la domanda che mi viene è ma alla fine come si fa una selezione ragionevole delle persone che possano lavorare attorno a questi progetti e che abbiano una ragionevole certezza di essere messi a terra con successo e che possano quindi diventare un win-win fondamentalmente domandona no c'è tu vuoi sereno allora diciamo partirei dalla fine cioè la ragionevole probabilità di essere messa a terra secondo me passa attraverso la verifica di una serie di data point di metriche che servono al top management ai business per prendere decisioni rilevanti il collega parlava di MVP secondo me l'MVP è lo strumento ideale per andare a raccogliere una serie di parametri che ti servono per giustificare la richiesta di un investimento più rilevante quindi sicuramente il processo da questo punto di vista deve aiutare anche perché tutti umani siamo tendenzialmente spaventati dal cambiamento e scettici no quindi il data point incontrovertibile aiuta ovviamente tutte queste cose qua passano da un intermediario sempre umano e quindi qua io premetto faccio innovazione non necessariamente digitale non necessariamente intelligenza artificiale ma mille altre cose volendo o magari anche nessuna l'elemento personale però è molto importante cioè di nuovo la chart di prima a me faceva molto riflettere quella del World Economic Forum perché noi parliamo tanto di STEM 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 però di quelle dieci skill alla fine otto erano umanistiche ed è molto vero cioè noi una delle cose che stiamo a cui stiamo più attenti nella selezione delle persone è proprio la sensibilità l'empatia sono aspetti relazionali soft quello che facciamo noi è proporre innovazione per proporre innovazione ti devi porre in punta di piedi devi avere il buy-in dei business nelle fasi più preliminari possibile devi quasi come dire lavorare affinché l'idea sia del business e non la tua questo perché il commitment delle persone sulle linee è molto importante per portare avanti i progetti i top manager sono importanti ma alla fine i blocchi principali nelle aziende le mettono i middle manager se non ancora le persone sotto quindi sono quelle che vanno portate a bordo e quindi entrare in punta di piedi essere empatico avere un approccio comunicativo giusto secondo me è la skill numero uno che serve dopo di questa vengono le skill tecniche noi ripeto facciamo innovazione quindi nessuno del nostro team è un tecnico verticale su una tecnologia piuttosto che un processo industriale perché noi lavoriamo sul concetto di sperimentazione di MVP per cui diciamo abbiamo un problema da risolvere un'opportunità da cogliere disegniamo il MVP disegniamo il modello proviamo a sperimentare un concetto di lì in poi entrano i tecnici veri che ci supportano nella messa a terra perfetto quindi questo qui secondo me è un passaggio molto importante cioè in realtà quello che stiamo scoprendo è che portare in azienda l'intelligenza artificiale è portare in azienda innovazione le metodiche gli skill le competenze le roadmap il modo in cui l'approcciamo è esattamente quello questo secondo me è un passaggio fondamentale è un passaggio fondamentale questo l'intelligenza artificiale non è non è una naturale evoluzione dell'impatto che le tecnologie possono avere in azienda è quello che si chiama veramente un quantum leap è un salto stiamo cambiando curva e quindi il fatto di cambiare curva parlavamo prima però non lo vedo più parlavamo prima con Daniele del fatto che la curvatura di Spock in realtà esiste fin tanto che qualcuno non prova che non esista e quindi diciamo stiamo affrontando un mondo diverso dopodiché abbiamo scoperto con Daniele che esistono fabbriche di MVP o fabbriche di POC e questo è un altro elemento piuttosto importante perché ci dà l'idea del fatto che tra virgolette mettere a scaffale potenzialità di innovazione prima o poi viene colto come un senso concreto da parte del business allora la domanda a questo punto è ora quanto il business è diventato propositivo nei confronti dell'accelerazione su queste tecnologie o quanto invece è ancora in qualche modo a proteggere se stesso arroccato su una posizione che comunque in ogni caso si evolverà la tua esperienza il percorso che abbiamo fatto è stato fondamentale per evangelizzare tutte le aree di business alcune sono state più facilmente evangelizzabili altre meno però abbiamo visto che quelle dove il livello di evoluzione della capacità di essere analytics driven quindi data driven dove era più basso siamo riusciti ad avere un impatto più alto cioè hanno capito quanto anche mettendo qualcosa di semplice live portava dei rilevanti benefici nel loro lavoro in termini di efficacia o di efficienza e quindi sono diventati dei demand quindi oggi siamo in una situazione in cui dobbiamo fare il budget del 2020 in termini di sizing del nostro team sia in termini di risorse interne ma anche di budget esterno e probabilmente non riusciamo a crescere abbastanza rispetto alla domanda che c'è dobbiamo scegliere le aree che hanno chiaramente una win probability più alta un ROI più alto e lasciare qualche potenziale cliente interno abbastanza scontento e quindi adesso siete costretti siete costretti a selezionare e prioritizzare mentre prima tutto sommato avevate e questo è interessante perché io sono convinto tu hai detto una cosa molto interessante all'inizio del tuo intervento e cioè che non lo si sapesse perché in realtà non si sa è vero questo quindi adesso fare una priorità ci costringe in qualche modo ad assumerci un ulteriore rischio di caduta di efficienza perché potremmo prioritizzare qualcosa che secondo quelle che sono i nostri termini di paragone attuali è assolutamente diciamo irrinunciabile salvo poi scoprire che invece il pollicino della situazione è quello che avrebbe fatto veramente cambiare l'approccio sul mercato per questo comunque la fabbrica di prototipi e POC non si interrompe continua e non la priorizziamo cioè la facciamo andare a ve le spiegate ovviamente con un time box quindi il miglior lavoro che si fa in due giorni per questo riusciamo a fare qualsiasi POC viene in mente a chiunque il miglior lavoro che si fa in due giorni cioè c'eravamo sorpresi degli sprint alla Google in cinque adesso voi avete inventato lo sprint in due per cui diciamo che mi sembra un suggerimento che coglierei dal punto di vista complessivo diciamo cerchiamo di tirare un pochino le fila stiamo parlando quindi di una necessità di andare a incontrare pena la mancanza di vantaggio competitivo nei confronti del nostro mercato delle tecnologie che oggi comunque creano delle discontinuità questo è fuori discussione che sia così Marco ha segnalato un punto secondo me molto importante che è quello legato chiamiamole soft skill chiamiamole come vogliamo non quelle che tipicamente andremo a ricercare sul mercato in termini diciamo di contributo al disegno complessivo io poi ogni volta che parlo di queste cose mi infilo in un discorso secondo il quale molte di quelle non sono skill ma sono caratteristiche e quindi diventa ancora più difficile perché la caratteristica non la impari e quindi questo comporta anche una capacità di selezione diversa nel momento in cui noi andiamo a cercare nuovi collaboratori da portare a bordo Marco ha detto chiaramente è chiaro che il suo approccio è un approccio che tende ad avere una visione più possibile aperta empatia sono questi termini che ha usato ma allora mi chiedevo Matteo dal tuo punto di vista tu che governi anche l'organizzazione come dovrebbe evolversi io sono stato un po' provocatorio teal organization buttiamola laggiù in fondo lontano la Lu è uno che ci ha scritto un libro su reinventing organization chi vuole se lo possa leggere è molto interessante lo suggerisco perché comunque è pieno di stimoli ma mettendo i piedi per terra una banca con una tradizione con dei processi consolidati con abbiamo sempre fatto così dietro la porta qual è la sfida reale per mettere a terra un'organizzazione che si volti e guardi da un'altra parte so che è una domanda che potresti stare qui a raccontarci sei anni purtroppo hai tre minuti quindi mi spiace ma posso dire quello che è capitato a me certo ma io quello ti devo la tua esperienza la nostra esperienza è quella tanto per dare un'idea parto da un dato di fatto noi abbiamo fatto delle iniziative quella di Alfredo ma anche altre in ambito AI con le risorse che avevamo cioè non abbiamo abbiamo introdotto metodologie e metodi portati dall'esterno da società che sono venute e ci hanno portato un metodo ma gli skill li avevamo in azienda su Alfredo la cosa più straordinaria è che il bot è stato addestrato da due ragazzi che prima rispondevano al telefono o al service desk vi risparmio la soddisfazione di questi due ragazzi che si sono visti proiettati dentro nell'empireo e il più innovativo mentre prima si respirava l'aria del ti mando al service desk perché così come dire ti parcheggiamo lì e invece si sono ritrovati a fare il progetto più innovativo dell'anno scu di due anni fa e abbiamo il tema è più legato a come tu indirizzi le skill che hai e le personalità che hai all'interno dell'azienda come fai percepire che stimoli in loro una visione gli racconti una storia gli fai percepire che è fattibile e ottieni subito un primo risultato e questa cosa attorno a te raduna le persone che hanno voglia di giocarsi e quindi sono emerse pian piano nel nostro percorso poi le abbiamo sì prese inserite all'interno delle architetture ma abbiamo aggregato funzioni di business funzioni di rete funzioni di altri dipartimenti a lavorare su queste iniziative su questi progetti perché emergeva una volontà di voler partecipare all'iniziativa perché l'iniziativa era di soddisfazione mi viene una domanda mi viene sul tema della partecipazione così chiudiamo il tuo intervento di esperienza personale quanto quanta coincidenza c'era tra le persone che sono emerse per rispondere a questa sfida e i vostri modelli di talent management critica critica quinto emendamento se vuoi quinto emendamento perché non spetta a me dirlo però nella mia esperienza professionale io spesso mi sono trovato persone che magari erano come dire che arrivavano con un giudizio non positivo e non so perché con me hanno lavorato sempre benissimo te lo dico perché se vuoi il miglior asset per un talento è il suo capo e quindi Marco a te invece chiedo un'altra cosa hai ripetuto più volte che avevi esperienze pergresse diverse e lo sappiamo bene la mia domanda è ma quando sei arrivato in un'organizzazione così strutturata quali erano le aspettative nei tuoi confronti perché sono esattamente quelle che oggi tu hai nei confronti delle persone che stai selezionando per portare a bordo per costruire il tuo team e sono state confermate sono domande dure queste qua ragazzi domande dure allora eh lo so ma chiudiamo in bellezza diciamo che l'aspettativa che c'era prima che arrivasse diciamo faccio un passo indietro per raccontare un minimo di storia eh quando sono entrato in a due a due anni e mezzo fa la funzione innovazione non esisteva quindi io sono entrato per crearla e per avviare un processo che riuscisse a mettere a fare un po' di cambiamento quindi allora detto questo le aspettative secondo me erano di due tipi come dire le più illuminate che effettivamente riuscissi a smuovere un minimo col mio team evidentemente la capacità di fare innovazione o di fare emergere un'innovazione che comunque l'azienda ha sempre avuto cioè un'azienda che è andata sul mercato da 110 anni che diciamo è la prima multiutilità italiana di conseguenza diciamo non si può pensare che non avesse fatto innovazione finora ecco era più un tema di approccio secondo me e questa è l'aspettativa più illuminata l'aspettativa meno illuminata secondo me era che ci fosse finalmente qualcuno a cui delegare il fatto di fare innovazione così come dire ci potesse pensare alle cose importanti tipo le bittà quelle vere diciamo che è sempre è sempre vero però insomma diciamo che meno meno lungimirante dal mio punto di vista e credo che quello che come dire come aspettativa io nutro invece nelle persone che vogliono entrare vogliono venire a far parte del mondo dell'innovazione da noi è diciamo la capacità di far percepire al mondo circostante che l'innovazione non è qualcosa che possiamo delegare ma che dobbiamo fare tutti come diciamo all'inizio e quindi far percepire dove sta il valore dove sta anche il rischio di non farlo perché tante volte le innovazioni migliori derivano dalla paura no? cioè c'è un competitor che arriva si racconta che Amazon fa tutto quindi Amazon per me vende energia per lui vende carte di credito per lui vende le assicurazioni è il completo di tutti però iniziai effettivamente a vedersi però la paura ha sempre smosso tutti quanti e tutti hanno cambiato sulla base della paura però la verità vera è che quello che noi cerchiamo le persone è un e quindi diciamo l'aspettativa che abbiamo è poi una capacità che queste riescano a portare tra virgolette il verbo dell'innovazione che non che non prendano in carico di fare un processo di innovazione un progetto di innovazione ma che convincano altri del valore del cambiamento che inevitabilmente all'inizio implica essere inefficienti cioè quando introduci una cosa nuova funziona sempre peggio dell'ultima che hai appena rimosso e quindi sono sempre tutti incavolati poi però come dire tendenzialmente le cose migliorano e recuperi quanto hai perso quindi diciamo l'inefficienza poi c'è e va confermata però diciamo tendenzialmente poi viene risolta bene grazie Marco allora invece a Daniele faccio l'ultima domanda anche questa è un po' provocatoria non so se vedete sono un po' sto un po' accelerando allora voi fate assicurazioni per automobili nessuno comprerà più automobili fra tre anni forse fra due quindi dove si poi con la guida autonoma voglio dire ma l'assicurazione della guida autonoma ne vogliamo parlare le responsabilità che nascono diciamo da una scelta la guida autonoma le nostre previsioni dicono che diventerà qualcosa di massa fra qualche decade quindi ancora non lo vediamo come un rischio di brevissimo termine mentre il fatto che l'assicurazione dell'auto esatto dell'auto di proprietà sia qualcosa che nel giro di 5-10 anni ridurrà enormemente le quote di mercato tradizionali è una cosa reale su questo gli investimenti in data analytics sugli IoT sono fondamentali perché già oggi in Italia l'Italia è il paese guida sulle scatole nere installate nei veicoli progressivamente ormai praticamente tutti i gruppi anche più tradizionali utilizzano le informazioni contenute in queste scatole nere più andiamo avanti e più veicoli in sharing o veicoli diciamo non di proprietà ma in noleggio a lungo termine o forme di leasing particolari offriranno opportunità di selezione del rischio e quindi di essere un competitor di successo nell'uso dei dati molto più che di quanto si fa oggi con dati statistici standard come l'età la residenza eccetera quindi ancora di più è fondamentale avere delle skill un know-how e un posizionamento forte nel mondo data analytics per essere competitor di successo nel futuro era quello che volevo sentirti dire quindi ti ringrazio bene siamo messi d'accordo lo giuro questa qui è stata l'unica questa ultima domanda diciamo che me la son tenuta quindi però mi sembra che tutto sommato le risposte che abbiamo avuto siano estremamente ficcanti vorrei dire sono venute fuori cose molto interessanti molto interessanti secondo me che nel momento in cui noi avviamo un percorso di trasformazione e quindi cerchiamo di mettere a terra all'interno delle nostre aziende intelligenza artificiale debba essere tenuto in debito conto sono passaggi che non sono facilmente scontabili e sono passaggi che ripeto creano discontinuità con quello a cui siamo soliti fare e quindi sperimentazione e quindi competenze che esulano dalle STEM di cui noi tutti parliamo quindi capacità di messa a terra in tempi brevi anche in organizzazioni diciamo che hanno una storia di struttura e quindi va bene io ringrazio gli ospiti